Ehi, piccola, è solo un sogno. Mi chiamano. Devo andare o arriverò in ritardo al primo giorno di scuola. Sai che mi preoccupo. Non devi. Mio padre e io ci spostiamo molto. Questa è la quinta scuola che frequento da quando avevo undici anni. Stai bene? C'è qualcuno che mi segue, credo. Torna a casa, subito. Va bene. Sei gentile ad accompagnarmi a casa. Già. Papà! Ma che succede? Conosco quel simbolo. Eccolo. Sai decifrarlo? Oh mio Dio! Risen! Risen! Dov'è mio padre? Sta arrivando l'oscurità. Da all'inferno! Siamo già all'inferno. Siamo già all'inferno! Siamo già all'inferno! Grazie a tutti